Ciao a tutti, questo filmato ha lo scopo di presentare alcune delle caratteristiche più salienti del nuovo tema PASO 2013 realizzato con WordPress per siti scolastici a norma. Vediamo un po' di prendere a segnale alcune novità. La prima è il layout che cambia. Il layout del tema attuale è un layout completamente liquido. Infatti notete che se io ridimensiono la nostra finestra, notate che rimpiccioliscono, notate qua dalla parte comunicazione sotto studenti, sia le colonne laterali che il centrale. Mentre nella versione precedente erano fisse la larghezza dei due laterali, si ridimensionava soltanto quello centrale con alcuni problemi, ad esempio con risoluzioni più elevate. Come sapete, quando si amplia la larghezza del contenuto centrale c'è il rischio di rendere anche più difficoltosa la lettura. E la possibilità di avere layout liquidi, completamente liquidi, quindi anche con le colonne ridimensionabili, favorisce sia la leggibilità interna ma anche la disposizione dei contenuti all'interno delle barre laterali. Con l'unico limite che è legato un po' all'inserimento delle immagini che sarebbe opportuno inserire a questo punto con larghezza percentuale. Bene, questa novità è stata realizzata grazie al lavoro di Renato Durighello. Seconda novità è la possibilità di scegliere su più temi grafici. Abbiamo creato uno stile, diciamo quello di struttura, e uno stile collegato che invece gestisce fondamentalmente i colori che sono armonizzati tra di loro. Questo ha portato 12 layout differenti, che si potrà scegliere come vedrete dal pannello di amministrazione, e che sono per la metà a tinta unita come queste, e a metà invece utilizzano degli elementi sfumati. Vediamoli molto brevemente in rassegna. Ecco, questo è il primo tema, quello sul blu. Vedete? Questo qua l'abbiamo un pochettino ingrandito. Poi passiamo al tema, sempre blu, però blu sfumato. E notate, c'è una sfumatura in alto nella testata, e sono sfumati anche il menu sulla sinistra, che è il menu principale, insieme al menu dei soggetti, quello che rimane fisso su tutte le pagine. Poi abbiamo invece questo, che abbiamo chiamato come italiana, che richiama un po' il verde, il bianco e il rosso, con sfumature varie, forse la parte esterna vera modificata, sia nella versione a tinta, diciamo, unita, e sia invece nella versione con testata e menu laterale sinistro, invece sfumato. Poi abbiamo il marroncino, anche esso vedete meglio in questo modo, sia nella versione tinta unita, sia nella versione invece con sfumatura. Poi abbiamo il rosso, quello che tende al rosso, vedete che una delle caratteristiche di tutti questi temi è di avere una larghezza massima, che consente poi il posizionamento di due, diciamo, di uno sfondo laterale in basso, anche se si vede un pochettino meno, che è di un colore, ad esempio in questo caso l'arancione, che spesso sarebbe vietato, che è vietato all'interno dei contenuti, proprio per la difficile combinazione di contrasti, secondo gli algoritmi, che sono quelli indicati dagli organismi internazionali riferiti all'accessibilità. Anche se nella versione marrone abbiamo due tipi, uno sfumato e invece uno a tinta unita, poi dopo la versione marrone abbiamo la versione, questi qui invece sono tutti insieme, abbiamo poi il verde, ecco questo è il verde tinta unita, questo qua invece è il verde sfumato, che richiama un po' il tema precedente, il PAS 2011. E infine abbiamo il viola, che è quello che attualmente è presente, e sarà presente in questa dimostrazione, sia dal punto di vista della soluzione a tinta unita, che di quello invece con lieve sfumatura. Bene, detto questo, ritorniamo al nostro tema, in questo caso il tema attivo e il tema violo. Come vedrete sarà molto semplice cambiare da un tema all'altro, che diventa poi la nostra base, e poi oltretutto uno può produrne altro, oppure partire da questa base per fare delle modifiche, magari lavorando prevalentemente sul secondo foglio di stile, quello che è responsabile dei colori. Ecco, vediamo ancora altre novità prima di vedere alcune caratteristiche del tema in sé. Ecco, alcune novità non le vediamo entrando direttamente nel pannello di amministrazione. Entrando nel pannello di amministrazione, vedrete che ci troviamo di fronte a un elemento nuovo rispetto a quelli precedenti, del tema precedente. In particolare, se noi andiamo su aspetto, vedete che abbiamo la voce tema PASV. La voce tema PASV contiene degli elementi che sono assolutamente nuovi. Abbiamo l'impostazione del logo, e quindi è possibile andare a modificare il luogo preesistente con un altro logo, logo scusate, semplicemente andando sul menu, sul tasto sfoglia e prelevando il file del nostro computer, con tra l'altro un automatico ridimensionamento secondo le dimensioni scelte della testata, in modo da non avere poi problemi di ingombro del logo nell'area deputata ad accoglierlo, la possibilità di digitare direttamente l'alt del logo, ad esempio qua, se uno scrive porta aperte sul web, dando la comunicazione efficace immediatamente, quella della parte scritta, poi tra parentesi logo, memorizza e modifica il logo, automaticamente questa memorizzazione avviene sul nostro tema e quindi già sul nostro sito. Poi abbiamo quello sullo stile. Ecco qua la possibilità di cambiare lo stile del tema scegliendone una dozzina da questa. Ad esempio se dal viola voi potete passare a blu a tinta unita, non fate altro che sceglierlo da qua, memorizza, modifica e stile, e andiamo a vedere se è vero. Ecco che il nostro è cambiato, è diventato invece a predominanza azzurra o blu. Torniamo al nostro pannello di controllo, lasciamo adesso per un po' l'azzurro, e andiamo a vedere, a curiosare nel terzo elemento, quello che invece serve a gestire la testata. Abbiamo qua uno scorcio di editor, in modalità visuale sono stati inseriti quattro pulsanti, che sono il grassetto, il corsivo, il pulsante per l'acronimo e per le abbreviazioni. Sapete anche questo, un elemento non strettamente richiesto dalle requisite di accessibilità, ma qualcosa di molto utile. Questo fa più parte delle buone norme di buona scrittura. Sappiamo che già dagli anni 90, quando sono uscite le direttive sulla scrittura dei testi, sia amministrativi che non, veniva scoraggiato l'uso, che è spesso troppo presente, degli acronimi, delle sigle o delle abbreviazioni, che spesso sono capite bene soltanto dagli addetti ai lavori. Bene, è buona norma cercare di ridurla all'osso, al minimo, e quando ci sono è possibile descriverle, in modo che automaticamente, quando uno ha il mouse sopra la parola stessa, uno legga la descrizione di un acronimo, di cui magari non conosce il significato. Ecco qua, noi abbiamo quindi, vedete qua, la scrittura similità visuale, che in HTML, ecco, questo passaggio, peraltro, ci consente di prendere un po' di confidenza su quello che è proprio lo stile di scrittura. Ecco, questi ultimi due simboli, abbreviazione e abc, cioè acronimo, diventano attivi soltanto nel momento in cui uno ha installato un plugin, che noi consigliamo decisamente, di arrecchimento dell'editor, dei test, che si chiama TinyMC Devense, e vedremo poi la dotazione plugin. Anche qui, quando uno cambia, magari mette il codice vero, e lo cambia qua, memorizza nelle modifiche della nostra testata. Bene, andiamo al footer, piedi pagina, la stessa cosa. Qui, se uno vuole aggiungere qualcosa, però qui consiglierei di lasciare così com'è, e di andare soltanto a modificare l'autore del sito. Il resto lo lascerei identicamente, proprio perché è un po' l'elemento per noi fondamentale, che non è tanto citare che questo sito è stato, c'è parte dei materiali messi a disposizione della comunità portaparte sul web, ma soprattutto la seconda parte, deve e vogliono i nostri modelli, rimanere dei modelli, a libera diffusione, a libera distribuzione, utilizzabili liberamente, gratuitamente senza dovere niente a nessuno, se non l'appartenenza a un gruppo di lavoro dove ci si aiuta in modo appassionato da una parte, dall'altra parte anche, diciamo, professionale e arricchente in modo reciproco. E qui, quindi, si mette il proprio nome e cognome e personale o anche di più persone e viene automaticamente memorizzato nella parte inferiore del footer. Poi abbiamo un'altra grande e ottima novità, l'impostazione dell'home page. Ecco, nel modello precedente, che usava PAS 2011 con la guida a corredo, ricorda che l'home page veniva gestita attraverso un lavoro di, diciamo, riporto di alcuni numeri che erano i numeri che identificavano gli articoli. Qui noi decidiamo solo tre cose. Andiamo un attimo a vedere il sito per capirci. vedete che questa qua è la zona centrale, che in realtà è suddivisa in tre parti. Una parte di sinistra, questi sono in pratica degli articoli che vengono poi ad essere associati a una data categoria e vanno poi ad essere depositati nella home qua sulla sinistra, e una parte sulla destra che invece è frutto di un automatismo che mette in, diciamo, uno sotto l'altro, in ordine cronologico, un numero fisso, che mi sembra sia di tre, ultime news e ultime circolari, quelle che appaiono poi automaticamente nel contenitore circolare o nel contenitore news. Bene, andiamo a vedere come funziona questo automatismo facilitante. ci scelgono quali sono le tre categorie. La categoria in evidenza è quella che noi abbiamo utilizzato per le news, è quella che è in alto a destra. La categoria comunicazione è quella che noi abbiamo messo le circolari, che è la seconda sotto le news, sempre sulla destra. Invece quella che è sulla sinistra è quella che ospita dei contenuti che non sono in realtà sempre ordinate cronologicamente, ma che possiamo noi ordinare secondo le necessità della scuola. Allora, in questo caso, quando noi vogliamo gestire questa colonna di sinistra, è sufficiente che noi creiamo un nuovo articolo, un nuovo articolo, e lo andiamo, facciamo qua una prova, prova di contenuto da mettere a sinistra, poi la buttiamo via, questa prova. Qua scriviamo un testo e andiamo a dirgli che questo è un testo che ha categoria home page e diciamo pubblicalo. Ecco. Quindi, dove andiamo adesso a ritrovare il tutto e a poterlo sistemare? Perché se noi andiamo qua, nella nostra home page, vedete che prova di contenuti da mettere a sinistra e non lo troviamo mica. Come facciamo a inserirlo? O a togliere un contenuto? Beh, torniamo ancora nel nostro pannello di amministrazione e andiamo in aspetto, tema, porta aperte sul web, cioè puzzle, impostazione, home page. Avete visto che avevamo scelto home page come contenuti che vanno sulla sinistra e andiamo a vedere adesso abbiamo memorizzato quali sono i contenuti. Articoli home, colonna di sinistra. Ecco, vedete? Alcuni sono inseriti, altri sono disponibili ma non inseriti. Vedete che quello che abbiamo appena messo è entrato qua. se io non l'avessi categorizzato, non l'avessi associato alla categoria home page qua non ci sarebbe stato. E vado qua allora a portarlo. Non voglio che sia in fondo, voglio che sia magari in testa perché è un contenuto particolarmente importante. Voglio metterlo sotto benvenuti, lo tiro su. Andiamo a vedere. Ecco, se è vero che adesso questo articolo eccolo qua. Vedete? In seconda posizione. Chi è che ha fatto tutto questo e anche diciamo tutte le cose che abbiamo visto prima del piano di configurazione. Ignazio Scimone dell'ambito tutorial di Varese che veramente con grande attenzione, abnegazione e tempo che ha dedicato alla buona realizzazione di questo tema ha inserito tutte queste innovazioni che il profondo conoscitore del codice ci ha messo a disposizione. Bene, adesso però andiamo a toglierlo quel contenuto perché non ci interessava. Adesso qua forse non l'avevamo salvato e quindi non appare. Bene, adesso andiamo ecco questo abbiamo terminato quello che è il pannello di configurazione. Andiamo adesso invece a vedere l'ultima novità che invece noi troviamo nel momento in cui andiamo a costruire delle pagine particolari. le pagine particolari sono le cosiddette pagine che contengono degli articoli ad esempio docenti ha una parte che è una parte fissa più ha un filtro di tutte le comunicazioni che sono riferite ai docenti. Chi utilizzava il tema precedente sa che questo lavoro avveniva attraverso una configurazione manuale a volte un po' laboriosa. bene se adesso noi andiamo in modifica pagina possiamo notare che in questo caso questa pagina che è associata alle categorie è ancora col template standard cioè è stato abolito il template aggiuntivo pagina con categoria perché tutto questo viene gestito in automatico da questo nuovo menu che è inserito in azio elenco categorie quindi una volta che uno vuole creare un contenuto che filtra tutti e solo gli articoli che sono diciamo correlati al contenuto non fa altro che fare questo inserire una nuova categoria facciamo finta di inserire la categoria non so quale altro vediamo un po' quelle che abbiamo qua nel menu orizzontale abbiamo docenti studenti genitori personale creata aggiungiamo genitori fa già per famiglie aggiungiamo aggiungiamo famiglie facciamo finta che non fa genitori e facciamo famiglie quindi è soltanto una prova che è dovuta alla mia scarsa fantasia bene andiamo qua in bacheca inseriamo per prima cosa una nuova categoria articoli categorie aggiungiamo una nuova categoria la chiamiamo magari famiglie e la andiamo a inserire cliccando su aggiungi vedete una volta uno doveva andare qua con il mouse sopra famiglie andarsi a leggersi l'id fare tutto un lavoro particolare adesso tutto è molto semplice una volta che tu hai inserito la categoria fai la nuova pagina che si chiama magari ancora famiglie qua ti scrivi quello che vuoi e qua vai a dirgli che questa pagina oltre a ospitare questo testo come una qualsiasi pagina statica filtra anche tutti gli articoli che sono stati etichettati con la categoria famiglie per dirglielo come facciamo lasciamo template standard diciamo elenco categorie guarda metti famiglie lui lo trova perché le trova tutti pubblica ecco che adesso se io vado a visualizzare la pagina adesso la metto ancora nel menu vedete che qua abbiamo in automatico un archivio per cui nel momento in cui noi avessimo un contenuto che è categorizzato come famiglia prendiamone uno qualsiasi ad esempio diamo l'informazione sul nuovo sito pronto pass 2013 versione beta lo diamo modifica diciamo che questo articolo deve andare anche nella categoria famiglie aggiorniamo se tutto funziona se noi andiamo a vedere la pagina famiglia dovremmo trovare questo articolo andiamo a vedere se è così allora andiamo nelle pagine tutte le pagine non possiamo andare nel menu perché non l'abbiamo ancora inserito andiamo a cercarci la pagina famiglie cerca pagina l'abbiamo trovata la visualizziamo e vedete qua che noi abbiamo le comunicazioni filtrate con l'archivio già attivo ecco questo è soltanto una preview di alcune delle succose novità di questo tema naturalmente per poterlo usare a dovere noi metteremo a disposizione ancora la nuova guida passo a passo in modo che in poco tempo io direi che in 4-5 giornate di lavoro uno possa configurare in modo corretto e possa utilizzare al meglio questo tema oltretutto è nostra intenzione dare anche a disposizione tutti i contenuti che possono essere importati nel vostro database in modo in poco tempo di avere la copia identica di questo sito su cui voi potete lavorare soltanto anche a livello di modifica